Ciao giovani, oggi facciamo questo gran brano di John Lennon che in questo periodo ci sta a pennello a pennello perché? Perché dobbiamo immaginare, è bello immaginare un mondo migliore un mondo dove non ci sono tutti questi malanni e bordello e tutto quello che sta succedendo però vabbè, nulla, oggi sono un po' malinconico quindi facciamo, gli accordi sono molto semplici, do maggiore quindi quella parte sempre sulla terza corda no quindi ci siamo? Avete capito? Non avete capito nulla? si va dal do prima del ritornello si ripetono queste strofe e rifacciamola di nuovo poi la parte sempre libero e poi di nuovo strofe boh, spero che abbiate capito e mi raccomando iscrivetevi al canale e divertitevi qui e